Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di JIT FOX WORLD. In questo canale troverete video interessanti su esperienze di vita, di lavoro, video su informatica, recensioni di videogiochi e avventure della vita e tanto altro ancora. I video sono in italiano, ci sono anche video in inglese e video in altre lingue, saranno pubblicati molto molto presto. Se desiderate iscrivervi al canale qui sotto con subscribe oppure condividerlo con i vostri amici, fatelo pure. A presto, un saluto a tutti da JIT FOX WORLD.